Questo servizio è offerto da Etnabus Travel di Pappalardo Alfio in piazza del Popolo 11 a Pedara e da Supermercati Crai in via Papa Giovanni I e in via Eugenio Montale a Pedara. E' il momento della prima semifinale quindi si gioca il posto per la finale di domenica 17 luglio Nice Bar, 7 partite, 7 vittorie, campione di girone e detentore dello scorso torneo di Pedara contro Lara Cafferi all'impianti che ha prodotto in semifinale da quinta classificata nel girone ma che ha battuto per 2-0, ricordiamo la formazione dell'acqua, design. Diamo quindi lettura delle formazioni di questo match che si prevede comunque avvincente. Nice Bar con Ludovico Gambino tra i pali, numero 3 Danilo Larocca, 4 Simone Bisicchia, 8 Egidio Moschetto, 9 Enrico De Carlo, numero 12 Armando Mazzaglia, 17 Enrico Cordova, 27 Alessandro De Carlo, 93 Fabio Salemi e 98 Carmelo Di Mauro con in panchina. Alessandro Mazzeo, Concetto Di Mauro, Giuseppe Cordovana, Richard Papotto, Andrea Tempera e Claudio Tetto, il capitano della formazione della Nice Bar e Enrico Cordova. Risponde invece la formazione giallo-blu che almeno dal primo minuto non dispone di Giuseppe Alessandrino e questa è la mossa particolare, la mossa sicuramente a sorpresa. Il portiere è Nilo Ravasco, poi Salvo Finocchiaro, Alessandro Dolce Mascolo, Gianfilippo Di Benedetto, Sebastiano Pappalardo, Salvatore Famà, Federico Pagano, Angelo Reitano, Simone Zappalà. Questa è la formazione composta e c'è anche Alfio Pulvirenti evidentemente che parte dal primo minuto anche perché non vi è Giuseppe Alessandrino. Questa è la mossa diciamo così obbligata per la formazione nata da Antonino Sambataro con in panchina Simone Finocchiaro, Rosario Giorgio Fichiera, poi Simone Gianni, Antonio Caruso e appunto Giuseppe Alessandrino che evidentemente inizierà la partita dalla panchina. Salvo entrare a partita in corso. Inizia la partita il primo pallone giocato dai giallo-blu dell'Ara Cafferi all'impianti. Bisicchia pronto ad allungare ancora questa squadra con Mazzaglia, Moschetto, spazio per il numero 8, forse un po' troppo, ancora Mazzaglia, finta, ottima, è la conclusione che va in rete con Enrico De Carlo, tutto molto bello a partire dal pallone giocato dai Gidio Moschetto, Armando Mazzaglia e poi il gol del numero 9 quindi al dodicesimo minuto di gioco. Nice Barri in vantaggio sull'Ara Cafferi all'impianti. La grande squadra si vede quando realizza, capitalizza, ha la prima opportunità. batte comunque Federico Pagano, vediamo se fuori gioco c'è un giocatore. Pagano, ottima, la pennellata è mancato, il colpo di testa, ma che pallone messo in mezzo. Alessandrino non ha incornato 10 minuti alla conclusione di questo primo tempo. Con Alessandrino un po' spento, un po' fuori match il numero 10. Enrico De Carlo, ancora il numero 9, gran galoppata di Enrico De Carlo che entra in area di rigore. Enrico De Carlo gioca il pallone, fama di testa in calcio d'angolo. Se n'era praticamente andato il numero 9 in maglia celeste. Il pallone è giocato verso Mazzaglia che apparecchia la conclusione di Alessandro De Carlo. Ed arriva il 2-0 con la conclusione mortifera del numero 27 che batte Ravasco per la rete che vale il raddoppio. 27esimo minuto di gioco e segna proprio al minuto 27 il numero 27, Alessandro De Carlo. Mezz'ora di gioco con Pagano che può anche calciare. C'è stata una deviazione, Ludovico Gambino comunque ricorre alla parata tuffandosi sul suo lato sinistro. Carmelo Di Mauro per Cordova, ma brucia tutto Federico Pagano per la conclusione ancora del numero 15. Si sbaglia però ancora una volta il tempo della giocata finale. Pagano calcia, attenzione alla conclusione del numero 8! Traversa Piero e poi tap in! E c'è il gol dato dal direttore di gara. Gol quindi che vale il 2-1! Gol fantasma! Avremo bisogno probabilmente della Moviola che non vi è al torneo cittadino di Pedara. 2-1 comunque Federico Pagano, duplice fischio del direttore di gara. Aspettavamo un evento che la potesse cambiare. E' arrivato al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco. Quindi 2-1 Enrico De Carlo e Alessandro De Carlo. E poi questo gran gol, questa gemma del numero 8 in Amalia Gelo Blu. Pagano! Ancora il numero 9. Azione solitaria con Alessandrino che va a marcarlo in prima battuta. Danilo Larocca. Da gol destro. Posizione regolare quella di Carmelo Di Mauro. Bisicchia calcia! La parata di Nilo Ravasco. Poi Salemi quasi in forbice. Calcio di punizione già battuto da Alessandro De Carlo. Attenzione Mazzaglia! Ravasco non benissimo! Il pallone che poi viene giocato in area di rigore. Dove? C'è molta confusione. Nicebar vicinissimo al 3-1. Esicchia però stavolta eccede nel portare il pallone. Pulvirenti. Alessandrino. Il numero 10. Lo scambia per Pagano. Pagano col sinistro! Palo! Fama! Poi raccoglie Pagano. Quando calcia trova la porta spesso e volentieri. Conclusione col sinistro. Inisce quindi con il punteggio di 2-1 in favore della Nicebar. Questa prima semifinale. Vedremo se ci saranno probabilmente i termini per l'omologazione del risultato. Fatto sai che il direttore di gara comunque assieme agli altri due assistenti si dirigono verso gli spogliatoi e quindi probabilmente possiamo decretare la parola fine su questo match da Francesco Casicci e tutto. La rivederci a domani per il match tra Giovani Promesse e Termoprofili.